Lo sapevi che la distanza tra l'isola di Sicilia e la penisola italiana è di solo 3,14 km nel punto più vicino? Il braccio di mare che divide Reggio Calabria e Messina si chiama in siciliano Uscritturimessena Scusate per la pronuncia, amici siciliani Le imbarcazioni che attraversano lo stretto di Messina incontrano le correnti di due mari Il mar Tirreno e il mar Ionio Ci sono anche persone che attraversano lo stretto nuotando